Orsogna, uno dei centri simbolo della seconda guerra mondiale. Da qui infatti partiva la famosa linea Gustav fino al versante occidentale di Cassino, istituita dai tedeschi per originare l'avanzata degli alleati. Il museo di reperti bellici, allestito dai volontari dell'ERMA, esploratori ricerca a memoria Abruzzo e donato alla comunità, non poteva dunque che trovare posto in questo luogo. Meta in questo lungo weekend ferragostano di turisti curiosi, ma anche molti stranieri e parenti di emigrati italiani. Ordigni inerti, bossoli, almetti, schegge e perfino strumenti chirurgici rinvenuti in un'area dove era allestito un ospedale da campo tedesco. Questo che abbiamo realizzato è un piccolo passo per un percorso che speriamo molto più lungo, quello proprio di un vero e proprio museo che stiamo realizzando e che abbiamo aperto in questi giorni per accogliere anche le persone che tornavano dall'estero. Ci sono state molte visite di persone che tornavano dagli Stati Uniti, dal Sud America, originari della zona e hanno molto apprezzato. Ecco, un museo che in qualche modo si esaurisce oggi, ma che tende a essere in qualche modo permanente anche per le scuole, per chi vuole visitare. Esattamente, noi abbiamo fatto queste giornate il 15, il 12, il 15, il 16, questa sera sabato 17 e faremo altre aperture anche probabilmente a settembre. Adesso dovremo coordinarci chiaramente con il Comune di Orsogna, che è il nostro partner in questa avventura. E siamo già d'accordo con diversi insegnanti della zona che ci hanno fatto visita per accogliere studentesche e gruppi di studenti per giornate anche di approfondimento, perché uno dei nostri obiettivi è anche quello di presentare libri su questi argomenti, ascoltare conferenzieri storici. E quindi è un discorso che vogliamo far durare nel tempo. Ecco, in chiusura, mi piace sottolineare l'attività di Erma, che non è soltanto, diciamo così, filantropica, ma è un'attività di assoluta utilità e necessità anche al riparo, come è accaduto tantissime volte da pericoli, nel momento in cui, ad esempio, trovate anche ordigni ancora pericolosi, no? Sì, certamente, perché la ricerca sul territorio, come dicevo prima, un territorio devastato dal fronte, che è rimasto per mesi, molti mesi qui, è una ricerca col metal detector, chiaramente frutto di anche studio precedente riguardo le zone da investigare e che porta anche alla scoperta di materiale bellico ancora pericoloso, anzi, ancora più pericoloso del tempo, perché diventa instabile con il passare degli anni questo materiale. E allora facciamo un'opera, credo, anche benefica, di bonifica, che non facciamo noi, che chiamiamo a svolgere gli operatori dell'esercito, dei carabinieri, chiaramente, degli artificieri.